Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme alla Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, si sono recati a Campi Bisenzio, uno dei comuni toscani più colpiti dall'alluvione, dove in questi giorni sta operando la colonna mobile della protezione civile pugliese. 63 le persone arrivate dalla Puglia tra volontari e dipendenti regionali con i mezzi della protezione civile. Il Presidente Emiliano si è recato anche al Centro Operativo Comunale, ha partecipato alla riunione di coordinamento con tutte le forze impegnate sul territorio, tra le quali la Delegazione della Protezione Civile della Puglia. Abbiamo 50 volontari, ma soprattutto abbiamo una serie di macchinari essenziali come le idrovore, per esempio, che noi purtroppo dobbiamo utilizzare per il nostro specifico, con riferimento a aree simili a quelle che sono interessate dal disastro. Ma onestamente volevo, a nome di tutte le regioni italiane, come Vicepresidenza della Conferenza delle Regioni, dire che la Toscana non è sola. Siamo partiti immediatamente col lavoro, che è coordinato dal dirigente apicale della protezione civile della Regione Puglia, l'ingegnere Valenzano, che è qui e rimarrà qui a coordinare la nostra colonna. Vorrei esprimere profonda gratitudine nei confronti di tutti i volontari della protezione civile della Regione Puglia per questo intervento che stanno facendo in queste ore così drammatiche per i nostri territori della Piana Fiorentina in Regione Toscana.